Io sono l'istruttore dell'Orex Te l'ha dato chi? Il mio papà Il papà? Il mio papà Ma lui ha abitato in Spagna e va bene Guarda quello regalo Conosci il test del sonaggio? Eh? Il test del sonaggio lo conosci? No Si 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 Lo fai? Niente no? E non lo fai Si si Guarda e per accortarlo un pochino Posso metterci mano Se faccio Non metto mano sui fazzi No ok però Guarda perché mi hai troppo Troppo lungo No ma se Lo facevo L'avrei fatto se non Si denunciano la Rolex Si no 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 Ok Si no Si no Si no Si no Si no